Francesco, ti porterai dietro per tutta la notte probabilmente questa emozione, ma non è una cosa che finisce domani mattina? No, le emozioni sono state tante, da maggio in poi, ne ho vissute molte più in questi due mesi che magari in qualche anno. No, sorprese, sorprese, non me l'aspettavo e devo veramente ringraziare tutti, tutti dalla società, alla città, ai tifosi, alla gente che è venuta stasera, ai compagni che si sono resti disponibili per venire. Sono senza parole, veramente, una bellissima festa che mi porta lo dietro per sempre ovviamente. Ma quando hai invitato i tuoi ex compagni, pensavi che venissero così numerosi? Eh, visto il periodo pensavo di far fatica arrivare a due squadre, onestamente. Tanti volevano venire, ma ovviamente chi aveva impegni personali, tanti stanno ancora giocando, erano impegnati nei ritiri. Tantissime persone avrebbero voluto venire, purtroppo però eravamo un po' meno, però comunque è stata veramente bella, organizzata molto bene. Devo ringraziare, ripeto, la società, ma soprattutto quei ragazzi che ci hanno lavorato dietro, che sono ragazzi che lavorano dietro le quinte, ma che fanno di tutto per far sì che certe serate vengano al meglio. Ma il pomo e i masucci, dai? Eh, vabbè, lì sono una parte indelebile della mia vita, del mio cuore, me li porto sempre dietro, ma come tanti altri. E dove che quando condividi tanto poi, anche se li vedi poco, i ricordi sono sempre vivi, i rapporti sono sempre intatti, è una cosa molto bella. Poi ci ha messo una ciliegina e ti ha fatto fare gol. No, non cominciamo a dire questo perché, no, 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 io sapevo che andava di là e quindi l'ho messo dall'altra parte. Alberto, è stato un grande piacere quello di ritornare a Sassuolo per celebrare Francesco, che però ti ha fatto gol. Tu non sei stato prontissimo durante il gol, il rigore. Non si può dire perché sai che queste cose non si possono dire, però l'ho fatto apposta perché logicamente era la sua serata, per cui mi sono sentito in debito con lui e gli ho fatto far gol perché sennò sapevo che tirava da quella parte. Il cuore, il cuore cosa dice quando ci sono questi ricordi? Che dire, sono 14 anni della mia vita, sono arrivato che avevo 22 anni, 23 e sono andato via che ne avevo 35, 36 con tre figlie. È un'emozione enorme e incontrare tantissimi miei ex compagni di squadra per un evento così importante, perché comunque insomma Magna, per quello che ha rappresentato Sassuolo, insomma penso che sia una cosa unica. È stata un'emozione grandissima. Chiudiamo con te, tu continui ancora. Io continuo, mi diverto, fisicamente ancora sto bene, entusiasmo ne ho, ho trovato una società che mi sta dando fiducia, perché comunque sta apprezzando il lavoro che faccio sia in campo che fuori dal campo, per cui continuerò finché mi daranno l'opportunità, poi si vedrà. Hai volutamente, fortissimamente voluto esserci, anche se l'autostrada ti è stata contraria con due ore di ritardo, saresti arrivato in anticipo e invece ci sei stato per il momento clou. Il ricordo di Francesco, che già allora si cominciava a chiamare Puma. Sì, prima di tutto sono felicissimo, contento di essere qua per Francesco, ma soprattutto per la carriera che ha fatto, giocatore che se l'è strameritata la carriera che ha fatto, perché già da allora, dai primi allenamenti che abbiamo fatto, quando era arrivato, ha dimostrato subito sacrificio, volontà e soprattutto quello che mi aveva colpito era il fatto di ascoltare quello che diceva l'allenatore e quello che dicevano i compagni. Per cui già lì era segno di intelligenza, poi dopo sul campo è migliorato nel tempo, sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico e ha raggiunto una carriera importantissima e se l'è meritata. Hai visto lungo perché quando è arrivato a vent'anni veramente era ancora un ragazzino. Sì, era un ragazzino, però ce n'erano tanti in quell'anno, perché mi ricordo io, era il 2005, ma lui è un 84 e ce n'erano dentro 7-8 in quella squadra lì di 84. E devo dire la verità, è una squadra fondata bene, con sempre i crismi, quello che ha avuto successivamente il Sassuolo, sempre andare a scegliere ragazzi giovani, di prospettiva, con determinate caratteristiche anche caratteriali. Quello che mi aveva impressionato quando sono venuto ad allenare il Sassuolo, il gruppo, cioè l'unità di gruppo che avevano fatto i vari pensaltini, i piccioni, i tarozzi, i giocatori più esperti, inculcare la mentalità giusta a questi ragazzi più giovani. C'era anche un certo Masucci che gioca ancora. Masucci, l'ho visto giocare spesse volte, perché io abitando adesso in questo periodo a Carrara vado spesso a Pisa a vedere le partite, DB, l'ho visto parecchie volte, tutte le volte che entra fa la differenza. Ebbio, le emozioni esistono in qualsiasi momento, questa sera ce n'è stata una particolare, con il cuore che comunque era vicino alle lacrime. Sì, bellissimo, Francesco poi innanzitutto merita tutto questo e per me personalmente ad essere tornato a Sassuolo, scusate, avere questo calore da parte della gente e nello stesso tempo vedere Francesco così emozionato mi ha reso veramente felice. Il ricordo che maggiormente ti ha legato a lui, al di là della scalata alla Serie A? Beh, un insieme di cose, dalla Serie A al raggiungimento dell'Europa Liga. Con lui come capitano io ho avuto sempre un grande punto di riferimento all'interno del campo. Qualsiasi problema riusciamo sempre a risolverlo insieme. Credo che un ragazzo così per un allenatore è stato per me un valore aggiunto. Un augurio che ti viene di botto? Ma che possa diventare un grande allenatore oppure che riesca a esaudire tutti i suoi desideri. Non è detto che debba fare l'allenatore per forza in prima, credo che abbia le caratteristiche però per diventare un ottimo allenatore.